No, 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 quella era una battuta del calciatore, adesso basta. Poco sportivo. Sì, poco sportivo. Parliamo adesso del balletto, parliamo del balletto? D'accordo, d'accordo, è semplice, semplicissimo anche perché non si tratta di un balletto vero e proprio, è una donna che chiede scusa all'uomo che ama. Beh, ma cosa c'entra l'emancipazione? Ma guardo, lo vedrai che si tratta di una donna veramente emancipata. Bene, allora signori, osserviamo in che modo chiede scusa al suo uomo questa donna emancipata.